Pensavo di dover parlare delle sfiga di Vicenza dal punto di vista ambientale, quindi veloci, veloci, veloci. Noi dovevamo aprire il 25 aprile di due anni fa, quando è esplosa la pandemia, no? E per cui la nostra inaugurazione, che doveva essere un'inaugurazione molto bella, con il concerto, con la musica, eccetera, eccetera, è slittata di parecchio tempo. Ma quello che siamo riusciti a fare invece è stato aprire gli ambulatori popolari, quello sì, in piena seconda o terza ondata, perché ormai abbiamo perso il conto, no? Allora, quello che dicevi tu è vero, c'era questa scritta nel primo lockdown, non torneremo alla normalità perché la normalità era un problema, dobbiamo uscire migliorati da questa cosa, eccetera, eccetera. È evidente in questo momento che il nesso, quindi, della zoonosi, del salto di specie, del virus, della sindemia, non è un nesso che è stato massificato. Cioè, quello che chi è seduto in questa foresta, chi partecipa ai comitati, ha ben chiaro, cioè il problema è il modello di sviluppo. Il modello di sviluppo ha provocato il fatto che un salto di specie di un virus ci ha fatto entrare in quella che è l'era delle sindemie, perché questa qua è solo la prima con cui ci troveremo a combattere, fronteggiare, che di fronte a questo si è spostato il problema sull'individuo e non sul collettivo. Cioè, questa cosa qua è evidentemente qualcosa che non è passato e per cui, in qualche maniera, noi ci siamo trovati a dare una risposta che era una risposta, ovviamente, come dire, politica, abbiamo scritto, abbiamo approfondito, c'è stato fatto questo convegno molto importante di cui si parlerà anche sabato per dire se noi mettiamo a repentaglio l'ambiente, se noi distruggiamo la casa in cui viviamo, dobbiamo abituarci ad avere indietro quello che noi seminiamo. Dicevamo prima della pandemia che stavamo entrando nella fase in cui, parlavamo del tifone di vento, vai, lo parlava prima Mattias, era solo il bussare alla porta che avrebbe invece portato a chi quella porta l'avrebbe aperta a calci. La pandemia e la sindemia sono questo. Cioè, noi siamo entrati nell'epoca della catastrofe climatica. E la catastrofe climatica non porta alla percezione, come tutte le catastrofi. Noi stiamo facendo al Caracolo un laboratorio di ecologia politica dove cerchiamo di mettere insieme le lotte dei comitati territoriali con le lotte di Friday for Future. Cioè, stiamo facendo un esperimento che è quello di far colloquiare i giovani e i giovanissimi che si sono trovati scaraventati in questa sindemia con i comitati territoriali come quelli del Fasco e c'erano ovviamente i nostri amici con cui stiamo discutendo. Ecco, questa cosa qua, questi esperimenti che stiamo facendo, ci servono per dire questo, per affermare che se costruiscono il TAV a Vicenza, e c'è un'opera che il Dal Molini in confronto è qualcosa di minimale. C'è una colata di cemento che parte da Altavilla fino a Vicenza Est, fatto di raccordi, di punti, di sottopassaggi, spostamento di ferrovie, una nuova megastazione. Ecco, questo, cioè il cemento che noi mettiamo, le emissioni di CO2 che noi mettiamo nelle opere che dovrebbero a sentire qualcuno essere le opere che ci portano a risparmiare CO2 sono invece onnivore di clima. Invece noi dobbiamo preservare le zone umide, le paludi, l'incolto, riabituarci anche a un selvaggio che non esiste più. Cioè è questo lo sforzo che dobbiamo fare, no? E noi questa cosa l'abbiamo coniugato ovviamente anche al tema della salute. Cioè se chi ti governa, chi governa il mondo, non ha nessuna, come dire, cioè non c'è cura, il capitalismo non è in grado di prendersi cura, no? Perché non ci dà la possibilità di vivere in un ambiente sano. Allora dobbiamo farlo noi. E allora dobbiamo costruire dal basso meccanismi come quelli della salute popolare. Noi nel nostro piccolo siamo riusciti a fare un esperimento neanche tanto male. Abbiamo un ambulatorio dentistico di medicina chirurgica, ginecologia, ottometria, medici di base, psicologia, eccetera, eccetera. Se non si prendono cura loro di noi, dobbiamo abituarci a costruirci meccanismi di cura dal basso. Ma la sfida non è quella che noi ci sostituiamo allo Stato o alla Regione o all'Asla o all'USL per prenderci cura di quella parte che loro non sono in grado di fare e quindi diventiamo in qualche maniera la Caritas di sinistra. No, la sfida è quella di dire io ti offro la possibilità di stare dentro un meccanismo di cura collettiva che è una parola importantissima, ma la stessa cura collettiva la dobbiamo applicare alla natura e all'ambiente che ci sta intorno. E allora se io apro un ambulatorio popolare è la stessa cosa se mi pongo il problema di fermare un cantiere del TAV. Se io do un servizio di mutualismo dal basso è la stessa cosa che mi porta a Venezia a impattare contro coloro che difendono la zona rossa. Cioè questa è la sfida che questa carovana ci deve fare. Ed è una sfida difficilissima. quella di far colloquiare chi ha un sapere importante come quello dei comitati con le nuove generazioni in lotta che si sentono dopo un anno e mezzo di lockdown senza una via d'uscita. Cioè costruire le forme in cui mutualismo, solidarietà, cura, conflitto diventano temi comuni di un'agenda da costruire tutte e tutti insieme.